Buon pomeriggio dal provinciale, buon pomeriggio da Trapani, città di Acireale. Tutto è pronto quindi per la dodicesima partita del girone I della serie D. Il secondo tentativo di battuta con la prima palla scaraventata all'interno della tre quarti con Capitan Sabatino e calcio di rigore. Calcio di rigore per la Cireale. Parte Montaperto, gol 1-0. Il gol del vantaggio al primo minuto di gioco nel piatto destro all'indirizzo di Pino. Va a saltare un avversario, ci riesce. Palla all'interno della tre quarti, il tiro da parte di Marco Grimi. Il tiro di Marco Grimi, centrale. Ma attenzione a Kragel che ruba il pallone. Lo gira per Cocco, palla dentro. Non ci credo! Non ci credo! Mattia Cagliardi alza un pallone. Troppo facile, troppo facile per lui quel pallone. Sventaglia sull'out di sinistra, il cross di Morleo. È abbastanza lento ma arriva poi alla fine a Kragel. Contro cross del tedesco! Contro cross del tedesco! E questa volta la mette dentro Mattia Cagliardi! Mattia Cagliardi con la testa. Il cross di Umberto Morleo. Il tentativo di giocata, il contro cross delizioso di Oliver Kragel su una palla. Sulla quale Mattia Cagliardi si abbassa e deposita il gol dell'1-1. E Ravaccaro, Kragel, l'area di rigore, palla dentro. Cagliardi, 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 Cagliardi. Può battere Mattia Cagliardi. Scio di punizione, quattro uomini in barriera. Tutto è pronto. Firma, fischia terribile. Parte Cocco! Largo. Il Kragel punta la porta avversaria del tedesco. Si libera di un avversario. Kragel, limite l'area di rigore. La sportellata su Kragel. Il tiro di Andrea Cocco. Non deve far fallo l'Ippino. Non lo commette. Kragel cerca di saltare avversari. Kragel! Kragel, il delizioso tocco Marigosu. Aria di rigore! Out di destra. Marigosu può entrare dentro il campo. Il cross di Marigosu. Il pallone che passa. Qui c'è rigore enorme. Il fallo su Cocco, secondo me, è netto. Vediamola un po'. Kragel cerca di saltare un avversario. Ci riesce. La palla lasciata lì. Per Pino. Il cross all'interno dell'area di rigore di Pino. La girata poi di Cristini. Bloccata da Zizzania. Via 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 Grazie per la visione!